gentili telespettatori buona giornata scontri alla sapienza ci sono due arresti uno perché saltava allegramente sulla macchina della polizia arrestato la ragazza arrestata secondo quello che ho letto aveva preso a graffiare la faccia del di un poliziotto quindi aggredito un poliziotto ed è stata arrestata ma la famiglia dice l'hanno arrestata solo perché non aveva i tacchi è sì no ma non è uno scherzo è realmente la madre della ragazza di 27 anni alla quale è stato convalidato l'arresto quindi l'arresto in flagranza di reato è stato poi convalidato dal gip giudice per le udienze preliminari per le indagini preliminari per gli scontri del 16 aprile alla sapienza la madre difende la figlia dice aveva un colloquio di lavoro questa mattina dopo essersi laureate in sociologie specializzate in scienze politiche e cooperazione internazionale nostra figlia stava facendo dei concorsi per lavorare nel volontariato sono sicura che ieri se fosse stata vestita con un tagliere e i tacchi nessuno le avrebbe fatto nulla invece l'hanno presa in tre e l'hanno portata via era lì con il cane che è stato lasciato lì e poi ce l'hanno riportato i suoi amici lei è tornata a casa ieri sera accompagnata dai poliziotti e ora è i domiciliari e ha aggiunto la donna che ha ricordato i viaggi in palestina in guatemala della figlia che nel processo fissato per il 22 maggio dovrà rispondere dell'accusa di lesioni e resistenza pubblico ufficiale secondo quanto ricostruito infatti ieri pomeriggio un gruppo di 300 manifestanti aveva tentato di fare irruzione nel rettorato dell'università dove era in corso il senato accademico ed erano stati respinti dal personale impegnato in servizio di ordine pubblico i manifestanti si erano quindi mossi in corteo all'interno dell'università e successivamente avevano tentato anche di fare irruzione nel commissariato in quel frangente era stato ferito il dirigente del commissariato san lorenzo dalla 27enne che è stata poi fermata che cosa c'entra come la vestita allora scusate un attimo sono successi in passato tanti fatti di questo tipo e abbiamo abbiamo parlo sempre al plurale come il mago telma avevo sempre detto nei miei video che il problema di questi giovani di oggi è che sono degli sbandati in molti casi non tutti in molti casi perché i genitori lavorano dalla mattina la sera i figli li vedono solo il sabato e domenica la sera quando arrivano a casa i genitori mangiano e vanno a dormire perché la mattina si devono alzare alle 5 del mattino per tornare al lavoro e magari anche il sabato quindi la famiglia si riduce a 1-2 giorni a settimana 5-6 giorni al mese 8 giorni al mese tutto il resto è inesistente quindi capite che questi giovani oggi crescono in molti casi senza qualcuno che gli dica cosa è giusto cosa è sbagliato come ci si comporta nella società che cos'è la società che cos'è la democrazia che cos'è il confronto bene allora la madre dice se fosse andata in giro a quei tacchi non sarebbe successo niente dire una cosa così lascia veramente perplessi è la figlia arrestata e la madre che dice se era coi tacchi non l'avrebbero arrestata diciamo che una madre dovrebbe andare dalla figlia e dire ma cos'hai combinato ma ti metti ad aggredire la polizia vai subito a chiedere scusa cerca di rimediare perché qui finisce a processo no la mamma dice se aveva i tacchi non sarebbe stata arrestata allora lei dice che la madre che la figlia stava andando a un colloquio di lavoro e passava di lì col cane e andava laureata dice stava andando a fare un colloquio di lavoro quindi andava poi vai a fare un colloquio di lavoro col cane io non ho mai sentito nessuno andare a un colloquio di lavoro col cane con tutto rispetto per i cagnolini ma andare al colloquio di lavoro col cane vabbè insomma sono delle domande che ogni tanto io mi faccio un po' sciocche magari si può andare i colloqui di lavoro anche con il cane perché no io se fossi andato ai miei colloqui di lavoro col cane mi avrebbero fatto uscire dalla fine non dalla porta ma dalla finestra comunque era lì col cane passava per andare a un colloquio di lavoro pensate un po' mentre lei passava per andare al colloquio di lavoro passava proprio in mezzo alla polizia i manifestanti cioè lei col cane andava al colloquio di lavoro dice scusate sto fatemi andare dritto mentre vi scontrate e mentre lei passava per andare a un colloquio di lavoro tra manifestanti che aggredivano la polizia lei casualmente spinta magari è finita con questa mano sulla faccia del poliziotto l'ha ferito e poi ci sono voluti tre per portarla via quindi ci sarebbe praticamente un un errore gigantesco cioè hanno arrestato una che passava di lì col cane per andare a un colloquio pensate che sfortuna cioè i fatti hanno fatto sì che questo braccio andasse a ferire il poliziotto pensate un po' che che caso fortuito ma davvero qualcuno può immaginare che tu passi per caso dentro una manifestazione e via col cane per andare un colloquio vieni arrestato e portato via da tre poliziotti per aggressione e lesioni a pubblico ufficiale e poi la mamma che dice se aveva i tacchi sicuramente non sarebbe stata arrestata o la figlia ha raccontato alla mamma guarda che io passavo di lì col cane e mi sono trovata all'improvviso in una selva oscura mi sembra così 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 curiosa tutta questa ricostruzione io se fosse io avessi un figlio che fa una cosa del genere pensate al povero papà di laria salis i problemi che ha e sta avendo con diciamo una situazione simile perché se tu fai una cosa in ungheria ti prendi magari anche 24 anni di galera se lo fai in italia ti prendi magari dieci giorni di domiciliari e poi sei libero avrai il processino ecco insomma diciamo che ci sono genitori che il papà di laria salis oggi non se ne parla più ma ha detto quando quando rivedrò mia figlia se sarà liberata la prima cosa che farò è e dirgliene quattro dirgliene quattro mentre non dire che se avevi tacchi non ti fermavano perché veramente la società arrivata a questo livello fa venire i brividi ma di quelli grossi arrivederci a tutti e grazie